Buongiorno, sono molto emozionata perché oggi inizia il nostro weekend al Salone del Libro di Torino. Quindi io sto aspettando la mia mamma e mia sorella, la valigia è pronta, sono pronta per partire. La giornata di oggi sarà in realtà occupata prevalentemente dal viaggio perché ci vogliono ben 5 ore per arrivare a Torino da qui. Però insomma saremo al salone domani mattina e lunedì mattina. Quindi sono veramente molto emozionata. Il pomeriggio della domenica invece saremo in giro per Torino, vi porterò con me, quindi tutto molto bello. E niente, quindi per il momento io vi saluto, ci vediamo direttamente in albergo oggi pomeriggio. Eccoci, arrivati! Ciao mamma! Ora vi facciamo vedere un po' la camera. Allora, prima di tutto, sorella Ilaria. Ciao! Questa è la stanza, faccio un grand'angolo. Eccola qua. I nostri tre letti, ciao mamma. Ti piace questo regalo, ti sta piacendo? Tantissimo! Ok. Quindi con i nostri tre letti, scrivania armadio, piccolina ma c'è tutto. E il bagno, molto carino, con la super doccia. Cosa vediamo di Torino dalla finestra? Niente, perché si chiude. Eccola. Eccola. Eccoci qua. Che bello! Bellissima giornata di sole splendente, noi siamo appena arrivati, siamo super felici. Cenetta mamma figlie, saluta mamma. Ciao mamma. E' distrutta dalla vita e tanti panini fritti. Sono tornata in hotel, sto aspettando la mamma e mia sorella e ho già il pigiama perché sono distrutta. E vi saluto, ci vediamo domani con il vero vlog al Salone del Libro di Torino. Ciao. Facciamone un alzone. E quella dietro e davanti. Eccola. Mamma, quanta coda abbiamo fatto? Quanti tornanti? 23. Dopo 23 tornanti più la coda, siamo arrivati finalmente. Dopo 24 penni. Amore è bellissima. Abbiamo lasciato il salone del libro, cariche di libri, anche se non abbiamo finito perché torneremo domani mattina, ma adesso ci dedichiamo a una visitina di Torino, quindi facciamo Mola Antonelliana e Museo del Cinema. Siamo capitate in questo mercatino, molto carino, ci sono prodotti artigianali, lo stiamo esplorando e quindi prima di andare alla Mole facciamo un giretto qui. Stanche? Mamma mia, mamma, dopo prendiamo il monopattino elettrico. Vedrete la ripresa? Dopo prendiamo la comodissima autobus. La comodissima autobus. Non l'ho detto! Non l'ho detto, non l'ho detto, non l'ho detto. Non l'ho detto, non l'ho detto, non l'ho detto, non l'ho detto. Grazie a tutti 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 3 ore in piedi tra i libri E poi 5 ore di auto Allora Buon appetito a noi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti